Anche la Camera dei Deputati ha ricordato l'8 marzo e lo ha fatto con la cerimonia di consegna di diplomi di onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Capo dello Stato. Un evento promosso dal Questore della Camera, Antonio Mazzocchi, per premiare quelle donne che si sono distinte per il loro impegno, la loro professionalità e la loro sensibilità. A consegnare le onorificenze nella Sala della Lupa di Montecitorio, il Presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, con il rammarico ha detto di poter riconoscere tale titolo solo ad un numero limitato di personalità femminili all'anno. E dunque ecco premiata il grande ufficiale Maria Grazia Cucinotta, attrice e ambasciatrice Unicef, e i cavalieri Antonella Manzi, Presidente di Confindustria Toscana, Leda Galiuto, Medico Cardiologo, Annunziata Spirito, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, Santina Marzola, Operatrice nel Volontariato, Franca Asciutto, Architetto, Prisca Sebastianelli, Imprenditrice, e Giovanna Menale, Casalinga. Donne che hanno dimostrato con i fatti di possedere grandi doti da mettere al servizio della società, donne speciali, donne uniche, donne semplicemente.